In Africa, migliaia di bambini sono costretti a nascondere il loro volto a causa di malformazioni e gravi malattie. L'intervento chirurgico dei medici volontari di Emergenza Sorrisi può cambiare per sempre la loro vita. Aiutaci! Dona 2 euro con un SMS al 45540 oppure 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa sempre al 45540. Il loro sorriso è nelle tue mani. Grazie!